Super tonificazione con pesetti, esercizi impegnativi per migliorare il tono muscolare della parte centrale e superiore del corpo. Questo workout richiede un'ottima preparazione fisica. Iniziamo! Ok, iniziamo. Distensione delle braccia in avanti, scaldiamo bene tutto il corpo, iniziamo dalla parte alta, tocco e allungo, tocco e allungo. Esercizio successivo, circonduzione braccia indietro, 3, 2, 1, cambio. Testa dritta, sguardo in avanti, movimento ampio dietro, scaldiamo bene le spalle, le braccia, deltoidi, trapezio, respiro, naso, bocca, vai, 3, 2, 1, cambio. Spinte dietro, 2 spinte e cambio lato, 2 spinte e cambio lato, vai. Un ottimo riscaldamento per un ottimo workout. Vamos! Respiro, naso e bocca sempre per non andare in affanno, 3, 2, 1. Ok, prendiamo il tappetino, ci mettiamo giù in posizione e partiamo con la circonduzione, un solo braccio. 3, 2, 1, circonduzione, vai. Un solo braccio, respiro, movimento controllato, bello ampio, scaldiamo bene prima di iniziare questo super workout. Ancora 3, 2, 1, cambio. Dall'altro lato, vai. Circonduzione del braccio, respiro, respirazione, movimento ampio, esercizio successivo, extra rotazione spalle. 3, 2, 1, vai. Extra rotazione delle spalle, gomiti, vicino ai fianchi, allargo lateralmente e ritorno. Respiro, scaldiamo bene tutto il corpo, vai. Ancora 3, 2, 1. Scendiamo con la schiena a terra e partiamo con la spinta da terra, con i pesetti. Andiamo giù in posizione, schiena aderente, gambe in sicurezza. 3, 2, 1, vai. Salgo, prendo aria giù e butto fuori l'aria su, vai. Respirazione, addome contratto, utilizzo un pesetto che mi permette di percepire il lavoro, ma di non rovinare la tecnica dell'esecuzione, vai. Ancora qualche secondo, non ti fermare, sempre respirazione, addome contratto, vai. Ancora. 3, 2, 1, recupero attivo. Ci prepariamo alle croci da terra, sempre schiena ben aderenti. Andiamo in posizione. 3, 2, 1, vai. Allargo e chiudo. Gomiti leggermente piegati, addome contratto. Mi raccomando, la schiena ben aderente a terra. Respiro, addome forte. Ancora 20 secondi. Attiviamo pettorali e braccia. Non ti fermare. ancora qualche secondo, vai. Respiro. Fino alla fine. 3, 2, 1, recupero attivo. Ci giriamo, pancia sotto. Diamond push up. Ginocchio a terra. Andiamo in posizione. 3, 2, 1, vai. Diamond push up. addome contratto. Sempre respirazione attiva. Scendo e salgo. Respirazione. Vai. Attiviamo pettorali, braccia. Respiro. Non mi fermo. Fino alla fine. Vai. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1, recupero attivo. Ci prepariamo all'esercizio successivo. Plank più sollevamento del gomito alternato. Mi raccomando, corpo in linea. 3, 2, 1, salgo. Corpo in linea. Sollevamento del gomito alternato. Respiro. Mantengo il ritmo. Testa giù. Lavoriamo sull'addome e sul lombare. Vai. Sollevamento alternato da un lato e dall'altro. Vai. 3, 2, 1, recupero attivo. Ritorniamo con la schiena a terra. Pesetti per eseguire i precipiti da terra. Respiro. 3, 2, 1, vai. Blocco i gomiti. Scendo contro il lato e salgo. Vai. Respirazione. Addome contratto. Vai. Non ti fermare. Fino alla fine. Tutti i secondi. Respira. Vai. Ancora. Ancora. Pam. 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 3, 2, 1, recupero attivo. Ci giriamo ancora. Push up. Ginocchia a terra. Più plank. Separiamo bene i due movimenti. 3, 2, 1, vai. Push up. Ginocchia a terra. Risalgo. Plank. Ancora. Salgo. Plank. Respiro. Mantengo il ritmo. Non mi fermo. Vai. Su. Ancora. Non ti fermare. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Ci giriamo. Schiena a terra. Spinte da terra. Presa stretta. più croci. Prendiamo i pesetti. 3, 2, 1, vai. Eseguo la croce e spinta. Croce. Spinta. Vai. Gambe in sicurezza. Addome contratto. Testa dritta. E respiro. Vai. respiro. Respirazione. Ancora. Vai. Non ti fermare. Fino alla fine. Vai. Vamos. 3, 2, 1. Rimaniamo in posizione. Ora eseguiremo le croci con le gambe in alto. Testa giù. Andiamo in posizione. 3, 2, 1. Vai. Respiro. Mantengo il ritmo. Addome contratto. Gambe sollevate. Respiro. Non mi fermo. Uno dietro l'altro. Repetizioni. Vai. Ancora. 15 secondi. Resisti. Fino alla fine. Vai. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Recuperativo. Ci giriamo a pancia sotto. Diamond push up. Ginocchia a terra. Vai. Andiamo in posizione. 3, 2, 1. Non inarcare la schiena. Mantieni bene la posizione. Respira. Vai. Scendo. E salgo. contro lato. Ginocchia a terra. Vai. Ancora. Non ti fermare. Vamos. Vai. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Recuperativo. Saliamo in piedi e andiamo a lavorare i tricipite con un braccio. Prendiamo un braccio. Prendiamo un pesetto. Pieghiamo le gambe. Posizione. Un braccio si appoggia sul ginocchio. 3, 2, 1. Vai. Tricipita un braccio. Respiro. 30 secondi. E poi cambiamo lato. Appoggio il braccio sul ginocchio per migliorare la stabilità. 15 secondi. E cambiamo lato. Vai. Ancora. 10 secondi. Respirazione. Ritmo. Vai. 3, 2, 1. Cambio. Dall'altro lato. piego. Piego. Respirazione. Ritmo. Non ti fermare. Lavora fino alla fine di tutti i secondi. però in esercizio. Vai. Pam. Pam. Ancora 10 secondi. Lavoriamo bene sul tricipite. Vai. Non ti fermare. 3, 2, 1. Recuperativo. Arnold press. Facilitato. Ci mettiamo in posizione. 3, 2, 1. Vai. Salgo e scendo. Controllo il movimento. Vai. Piego leggermente le gambe. Addome forte. Non ti fermare. Ritmo. Scarico il peso a terra piegando le gambe. esercizio successivo. Alzate laterali. Blocco iso. 3 secondi circa. Vai. Ancora. Vai. 3, 2, 1. Vai. Aperture laterali. Blocco. E scendo. Trattenendo. Iso. Scendo. Trattenendo. Vai. respiro. Respiro. E giù. Scendo. Respiro. Su. Mantengo la posizione. E scendo. Ancora. 3, 2, 1. E scendo. Ci prepariamo al rematore. Iniziamo solo da un lato. 3, 2, 1. Vai. Rematore. Una mano sul ginocchio per migliorare la stabilità. Addome forte. Salgo bene con il gomito oltre la spalla dietro. Vai. Ancora qualche secondo e poi cambiamo dall'altro lato. sempre il rematore. 10 secondi. Vai. Respiro. Non mi fermo. 3, 2, 1. Cambio dall'altro lato. Vai. respirazione. Sguardo giù. Addome forte. Vai. Respiro. Mantengo il ritmo. Non mi fermo. tonifichiamo. Rassodiamo tutto il corpo. Vamos. Pam. Pam. 10 secondi ancora. Respiro. 3, 2, 1. ci prepariamo alle alzate in elevazione. Tighiamo bene le gambe. 3, 2, 1. Vai. Salgo. Scendo. e risalgo. Controllo il movimento per la massima attivazione delle spalle e delle braccia. movimento pulito. Controllato. Vai. Ancora. Controllo. Tigo le gambe. Addome contratto. sguardo in avanti. Postura. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Bicipite a martello senza rotazione alternato. Gambe unite e leggermente piegate. Respiro. Andiamo in posizione. 3, 2, 1. Vai. Prima da un lato e poi dall'altro. Controllo il movimento. Gomiti aderenti ai fianchi. Porto il pesetto in modalità martello verso la spalla. Vai. massima attivazione delle braccia. Respiro. Vai. Ancora 10 secondi. Non ti fermare. Mantieni il ritmo fino alla fine. Vamos. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Appoggiamo il pesetto a terra. Partiamo con alzata laterale più alzata frontale. Andiamo ad attivare tutta la spalla. Prima da un lato, poi dall'altro. Allargo le gambe. 3, 2, 1. Vai. Alzata laterale e frontale. Mantieni il corpo. Fermo. Mano sul fianco. Eseguo apertura laterale e frontale. Laterale e frontale. Controllo movimento in discesa. Non mi fermo. Ritmo. Vai. Ancora 10 secondi. Non ti fermare. Vai. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Dall'altro lato. Stesso esercizio. Piego bene le gambe. 3, 2, 1. Vai. Apertura laterale e frontale. Laterale e frontale. Sguardo in avanti. Gambe piegate. Addome forte. Vai. E laterale. E laterale. Resisti. Fino alla fine. Cerca di controllare il movimento. Vai. Vai. ancora. Non ti fermare. Resisti. 3, 2, 1. Recupero attivo. Riprendiamo entrambi i pesetti. Gambe piegate. Martello. Saliamo insieme. Vai. Salgo insieme e scendo insieme. Gambe unite. Piego leggermente le ginocchia. Addome contratto. Sguardo in avanti. E respiro. Vai. Controllo il movimento in discesa. Allungo bene. Risalgo. Vai. 10 secondi. Non ti fermare. Fino alla fine. ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Abbiamo una spinta in alto più mezza spinta. 3, 2, 1. Vai. spinta in alto. Scendo. Mezza spinta. Spinta in alto. Scendo. Mezza spinta. Vai. Mezza. E salgo in alto. Mezza. E salgo in alto. Vai. Mezza spinta. Spinta completa. Mezza spinta. Spinta completa. Vai. Pigo le gambe per non scaricare il peso nella schiena. Vai. ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Avviciniamo il nostro tappetino. Ripartiamo con pectoral. Gambe a 90 gradi. Più busto sollevato. Schiena a terra. 3, 2, 1. Vai. Respiro. Mantengo le gambe sollevate. Busto sollevato. Addome contratto. allargo. Allargo. E chiudo. Respirazione. Vai. Fino alla fine. Non ti fermare. 10 secondi. resisti. Vai. Ancora. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Rimaniamo in posizione. Spinta in avanti. Gambe a 90 gradi. Più busto sollevato. respiro. 3, 2, 1. E si riparte. Vai. Addome contratto. Gambe sollevate. Vai con le spinte. Attiviamo i pettorali, le braccia. Lavoriamo anche l'addome. Ancora. Vai. Non ti fermare. Su. Su. Ancora qualche secondo. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Rissaliamo in piedi. Teniamo i nostri pesetti. Bicipiti a martello. Doppia salita. allargo le gambe. 3, 2, 1. Vai. Senza rotazione. Bicipiti a martello. Piego leggermente le gambe. Sguardi in avanti. Addome forte. Lavoriamo sulle braccia. Vai. Vai. Tonificazione. rassodamento. Bruciamo calorie per un ottimo workout. Vamos. Ancora 10 secondi. Vai. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci prepariamo all'esercizio successivo. Bicipiti a martello continui. Movimento continuo. Sempre gambe larghe. Pieghiamo leggermente le ginocchia. E partiamo. Vai. Movimento continuo. Bicipiti a martello. Respirazione. Ritmo. Vai. Continui. salgo e scendo. Ancora. Non ti fermare. Qualche secondo. 10 secondi ancora. Vai. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Riscendiamo a terra. Plank. Discesa al gomito. Solo un braccio. Scendiamo solo da un lato. 3, 2, 1. Salgo in posizione. Scendo solo da un lato. Addome contratto. Appoggio bene il gomito a terra. Vai. Ancora. Vai. Non ti fermare. Addome contratto. Mantieni il ritmo. Vai. Vai. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1. Recupero attivo. Recuperiamo. Stesso esercizio. Dall'altro lato. Plank. Discesa al gomito su un braccio. Andiamo in posizione. 2, 1. Vai. Scendo e salgo. vai. Controllo bene l'addome. Corpo in linea. Vai. Respiro. Scendo bene. E salgo. Ancora. Non ti fermare. Vai. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Esercizio successivo. Monopodalico alternato. Facciamo lavorare anche le gambe. Respiro. Andiamo su. Posizione. Salgo. Push up. Cambio piedi. Vai. Cambio piedi. Vai. addome contratto. Respira. Vai. Ancora. Vai. 3, 2, 1. Recupero attivo. Rissaliamo i piedi. spinti. Spinti in alto a martello. Gomiti leggermente chiusi. 3, 2, 1. Vai. Respiro. Mantengo il ritmo. Salgo. Figo le gambe. Vai. Fino a alla fine. Vai. Respiro. 10 secondi. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Alzate laterali più isometria. Una alzata laterale più una in isometria. 3, 2, 1. Vai. Alzata laterale. Isometria. E scendo. Alzata laterale. Isometria. Scendo. Ancora. Isometria. Vai. Alzata laterale. isometria. Ancora. Resisti. Pam. Pam. Ancora. 1. Isometria. 3, 2, 1. Recupero attivo. Alzate in elevazione più frontali. Allargo le gambe. Piego le ginocchia. 3, 2, 1. Vai. Elevazione. Giro. Frontale. Mi raccomando, piega bene le ginocchia. Addome contratto. Utilizza un peso che ti permette di curare la tecnica. E non ti dia problemi con la schiena. Vai. La sicurezza prima di tutto. Sempre in forma con fix fit. Vamos. Vai. Ancora. 10 secondi. Vai. Ancora. 3, 2, 1. Recupero attivo. Ci prepariamo alle alzate frontali più tricipite. Piede avanti. L'altro dietro. Uniamo i pesetti. 3, 2, 1. Vai. Blocco. Tricipite. Scendo. Frontale. Vai. Tricipite. Sali bene. Blocco. Tricipite. Ancora. Vai. Tieni i gomiti leggermente piegati. Gamba frontale piegata. Vai. Non ti fermare. ancora. Vai. 10 secondi. Vai. 3, 2, 1. Ok. Pausa. Passiamo alla parte dello stretching. Appoggiamo i pesetti a terra. Allungamento più trazione del braccio. 3, 2, 1. Vai. Trazione il polso. Ci spostiamo lateralmente senza forzare. Manteniamo la posizione e respiro. Un bello stretching dopo questo bel allenamento. 3, 2, 1. Lascio. Dall'altro lato. Trazione il polso. Vado in posizione. Respiro. Non forzare il movimento. Respira. 5, 4, 3, 2, 1. Allungamento e distensione del braccio. Dall'altro lato. Piano piano in posizione laterale. Respiro. E poi allunghiamo il fianco dall'altro lato. 3, 2, 1. Cambio. Dall'altra parte. Vai. Senza forzare lo stretching. Posizione. Respira. ancora qualche secondo. E poi passiamo alla divaricata frontale. 3, 2, 1. Allargo bene le gambe. Divaricata frontale. Scendo piano piano. Vado giù. Dove arrivo mantengo la posizione di stretching. Scarico la schiena. Scarico la testa. Rimaniamo in posizione senza forzare. Respiro. 5, 4, 3, 2, 1. Risalgo piano piano. E ci siamo. Il tuo allenamento è finito. Grazie che ti sei allenato con FixFit. Sempre in forma. Vamos! Grazie a tutti.